. GF VIP, Daniele Bossari all'Isola dei Famosi? Ecco il suo ruolo Ving Zuiden. . Il vincitore del reality show del Grande Fratello Vip 2 andrà presto in televisione? Il Grande Fratello Vip 2, video virgola è il reality show che è andato in onda nei mesi passati e che ha visto trionfare il conduttore del programma Mistero. . Stiamo naturalmente parlando di Cancelletto Daniele Bossari che in finale è riuscito a vincere contro l'ex tronista Luca Onestini. Daniele Bossari all'interno della casa più spiata di tutta Italia ha fatto uno splendido percorso ed è sempre andato d'accordo con tutti quanti. . Solo una volta ha avuto un diverbio molto acceso con il fratello della famosa show Giro l'Argentina Belen Rodriguez? Stiamo naturalmente parlando di Jeremias Rodriguez che all'inizio del reality show di Mediaset ha litigato quasi con tutti quanti i suoi coinquilini. . Video similaire Google ricorre contro la multa della Commissione Europea. Ma Daniele Bossari è stato il personaggio che ha fatto sognare moltissimi telespettatori per la famosa richiesta di matrimonio fatta alla sua amata Filippa. . La richiesta è stata fatta in diretta nazionale ed anche Ilari Blasi ed Alfonso Signorini si sono emozionati. Ma per il vincitore del reality show targato Mediaset potrebbe essere arrivato il momento di approdare in un altro programma di Canale 5. . Daniele Bossari accanto a Mara Venier? L'isola dei famosi 2018, video, verrà condotta dalla conduttrice Alessia Marcuzzi. Quest'ultima è molto amica di Daniele Bossari e sembrerebbe che lo vorrebbe come opinionista nel suo nuovo reality che partirà il 22 gennaio 2018. . Il conduttore di mistero dovrebbe prendere il posto dell'opinionista Alfonso Signorini e mettersi accanto a Mara Venier. Il vincitore del cancelletto Grande Fratello Vip 2 non ha ancora rotto il silenzio e quindi bisognerà attendere un altro po' di giorni per sapere la sua risposta. A rivelare questa notizia è stato proprio il settimanale Novella 2000. . Nel frattempo i naufraghi che dovrebbero partecipare a questa nuova edizione del cancelletto Isola dei famosi sono, Francesco Monte, Elettra Lamborgini, Chiara Nasti ed Alessia Mancini. I fan commentano la notizia di Bossari. La notizia ha iniziato a spopolare sui vari social network e molti fan hanno voluto esprimere la loro opinione. Alcuni di questi sono molto contenti di vedere Bossari accanto a Mara Venier, altri invece sono rimasti delusi per l'assenza dell'opinionista Alfonso Signorini. . Se volete continuare a ricevere ulteriori notizie sul mondo che riguarda il gossip e la televisione italiana, continuate a seguire questo profilo, cliccando il tasto segui che potete trovare in questa pagina internet accanto al nome dell'autore. .